Il covid continua a colpire duramente l'Irpinia, oggi la giornata più nera, solo nelle ultime ore si contano otto vittime, due morti al frangipane di Ariano, si tratta di un 89enne di Caposele, di un 76enne di Castellammare di Stabbia, altri sei erano ricoverati al Moscati di Avellino, tra cui anche un 39enne di San Paolo Belsito, gli altri sono un 77enne di Ercolano, un 81enne di Montoro, una 68enne di Domicella, un 73enne di Montelle, un 77enne di Solofra. E sono 109 i nuovi positivi a fronte di 935 tamponi processati, mentre calano i numeri nel capoluogo, oggi otto schizzano ad Altavilla, dove se ne contano dieci. E intanto dal frangipane arriva anche una buona notizia, è guarito ed è stato dimesso dopo due settimane il sindaco di Bisaccia, Marcello Arminio. Io voglio dirvi subito che il virus è terribile, è terribile perché in pratica è subdolo e all'inizio pare come se se ne stesse per conto suo, poi invece nei giorni successivi aggredisce organi e aggredisce tutte le situazioni che hanno una debole patologia. Quindi bisogna stare estremamente attenti, voi dovete ecco in qualche modo sempre e comunque difendervi da questa situazione.